Grazie Presidente, rimango un po' perplessa da tutte le parole che sento, quasi prive di significato da parte delle opposizioni perché quando si parla di debiti fuori bilancio che riguardano sentenze, forse si dovrebbero ricordare tutti qui i consiglieri soprattutto di opposizione che le sentenze per legge sono provvisoriamente esecutive, questo vuol dire che devono essere subito pagate, liquidate anche perché si incorre sempre, e questo lo prevede anche la legge, a oneri accessori a carico della pubblica amministrazione per quanto riguarda interessi anche talvolta moratori. Questo che cosa sta a significare? Che queste sentenze che vediamo vecchie nel tempo, nel 2013, ma anche più recenti e che riguardano quindi le vecchie consigliature sia quelle sotto Alemanno e sia quelle sotto Marino, chiaramente non sono state messe in esecuzione così come prevede la legge anche se con il ricevimento dei pareri da parte previsti dal TUEL. Per questo mi sembrano ridicoli ancora oggi queste diatribe che sento tra centrodestra e centrosinistra in quest'aula, che si rimpallano responsabilità quando responsabili sono loro per questi ritardi che ci ritroviamo oggi noi a dover votare e quindi ad approvare perché fuori da tutti i tempi previsti dalle leggi sulle esecuzioni delle sentenze e fuori da tutti i tempi che un cittadino può aspettare anche per diverse migliaia di euro come risarcimento da parte della pubblica amministrazione. Quindi c'è stata una totale mancanza di responsabilità da parte degli amministratori fino a qualche mese fa perché ricordiamo che noi ci siamo da poco più di cinque mesi e ci siamo trovati tutti questi debiti che andavano invece liquidati nei tempi previsti dalla legge. Quindi mi fa anche sorridere Presidente il fatto che oggi qualcuno non voterà invece di assumersi oggi la responsabilità e quindi votare responsabilmente a favore di questi debiti che ripeto molti riguardano alcuni cittadini che aspettano da anni. Grazie.